la religione, la prima cosa muovono la chiesa che vanno a fare? fanno solo i peggiori capi e si fanno bene e stanno e mi fattivano pure con i denti stanno si fattivano con i denti si fattivano tranquilli mica come a me, mi fanno tanto sempre prima si fattivano, si manavano con la capo dalla terra, senza la pappa con il trento, senza acqua e ti stai dicendo una cosa proprio bella si cantava con allegria con allegria non sono buono sono buono sono buono siamo stati santo poverietti non c'è mancato mai niente grazie a Dio non c'è mancato niente non c'è mancato niente non c'è tanta malinconia non c'è tanta malinconia non c'è ma si e non me ne va alla casa ma questa è la casa tua questa? questa io c'è vado io e come stai? io? ma non mi sento buono quando ne passano artrose poi non freddo un po' come se stessi i miei ma sta adesso la casa? ma quando la giuri? non la vuoi giuri ciò niente lo puoi ne lo puoi ma non me ne vao io trafattuta ti che non ci vedi ma ci diciamo? ma lì hai cucinato stasì ma non è mia grazie io attaccavo sull'entra chiamiamo la mia grazie ma io amo un genio tutti quanti buonasera venite venite tutti quanti non vi mettete vergogna di questa salutiamo ringraziamo la vostra presenza ci scusiamo per lo spettacolo è stata una cosa molto improvvisata dovevamo essere in più dovevamo fare una cosa molto diversa però purtroppo le avversità ci hanno costretto a spero che vi siate divertiti abbiamo fatto un piccolo conto salese il contesto è quello che è bellissimo stupendo ringraziamo Antonio Colitti i ragazzi che hanno organizzato questa magnifica serata le nunci, il comune, i signori vigili le amministrazioni e quant'altro ma soprattutto voi soprattutto voi i microfoni i grandi maestri ozittuoli tre microfoni caccio comunque va bene così grazie ragazzi grazie a signora Tensi D'Artugno il nostro regista siamo sotto Natale e quindi vi auguriamo Buon Natale e per augurare Buon Natale chiudiamo la serata con una cosa memorabile le zambogne che non si trova nessuno non si trova una zambogna né più noi ce l'abbiamo i zambognari ne abbiamo due che per l'occorrenza voglio dire colitti adesso a colitti in un noveco giù a colitti dove? facci i zambognari ad andare a buttire zambognari uscite un applauso ai zambognari grazie sentite? dobbiamo un attimo accordare gli strumenti ah 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 accordami Non, non c'è questa burghese. Pronto, un, due, tre. Grazie, grazie a voi, veramente, grazie, veramente di cuore. La sala è finita, se vuoi rimaniamo facciamo i barzelletti, cantiamo una canzone a piacere, possiamo fare qualsiasi cosa. Anche qualcuno può venire sul palco. Io, prima, le nostre guardie, le nostre guardie, le guardie, ecco, volevo non venire le... no, non volevo venire più. Va bene, vi salutiamo, grazie veramente, salutiamo un abbraccio.